Finalmente a casa A caia Ora stiamo aspettando Chris Siamo saliti con due macchine Chris e col furgone E abbiamo su un po' di Un tubo in PVC per fare un po' di park Un po' di gaseria Ma la neve sembra ottima Il tasso di umidità Dentro di essa è perfetto Intanto una gioia Finalmente zona gialla E possiamo tornare a gasare duro Siamo arrivati al park Che Lucchino ha costruito Molto gentilmente Negli scorsi giorni per noi Così siamo arrivati E' già pronto Ve lo faccio vedere rapidamente Abbiamo qua Un railino Questo è il bottom Quindi siamo alla fine del park Quindi si finisce con un bel railino Ringhiera con il gheppino Poi salendo Abbiamo Un bel fanbox Ora salgo così vi faccio vedere Un bel fanbox Con Tre misure diverse Lucchino Stefanino E Si può usare in snowskate Perché abbiamo anche gli snowskate E Si può comunque Usare da fare in transfer Fare robette Qua c'è della gaseria Abbiamo i due PVC da piazzare Rail in legno Un filo di legno Altra struttura Poi lì Abbiamo Una cisterna Appolgem Quindi Che slancia E Si usa tipo come kicker Questo genere di strutture E la partenza Quindi qua abbiamo gli operai Il buon Edo E il pizzo Ale Che ingheppato A posto Dove l'hai preso Il cranio Il cranio Che ha avuto Per la parte Vedi che ho aspettato Ha 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 Oh 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 no giorno 2 qua c'è già Edo che sceipa toglie i peli Luke lunedì noi iniziamo la settimana così ora andiamo a provare la line a scaldare intanto mi metto qua e faccio due video agli altri è perfetto ecco 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 Snow Edil per creare il tuo snow park direttamente sotto casa tua Picchialo forte vai più forte Abbiamo riscipato tutto, adesso ci siamo cambiati e ce ne andiamo a caia Qua sempre zingari come sempre Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e ci vediamo al prossimo video